Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono un po' storta, come sempre, ma è una tradizione. Come ho detto dal titolo, impacchettere i miei regali di Natale insieme. A me in realtà ne manca uno, il giosteo che lo finire, ma per sicurezza io l'ho fatto uno più piccolo. E quello che faccio con mia mamma, perché è semplice, devo metterlo questa, che è la busta di Tiger, ma sono dettagli. In realtà adesso mio fratello mi aiuterà, ma non mi importa. Io in tutti, fai cui così, quanto mi aiuterai. Ho messo, vabbè, il regalo, ovviamente, una o più conchiglie dal mare e una frasettina. E poi, vabbè, ovviamente il biglietto che ho scritto per chi è. Quindi iniziamo, io ho sta fossa dietro che non è il massimo per la luce, però sono comoda per il caldo. E mio fratello si spagna, ovviamente. Allora, mia madre ha coperto in cui abbiamo fatto il video a tre punta, è uscito sabato, e questo esce lunedì, quindi due giorni fa, poi la conchiglietta, una frasettina di Natale. Ora si chiude, almeno si cerca di chiudere, ok. Per sicurezza scotch e non morire. Sia il mio fratello che il mio fratello si sono beccati di nuovo l'impurezza. Mio fratello perché ieri è stato sotto la neve perché ciò più di pullman è neve. E si sta rimpiazzando di calatini perché ovviamente è la cosa più salutare da mangiare quando si sta male. Saluta? Ho detto saluta, non muori. Ciao. Vai che tu non hai le unghie. Tu fammi pezzetti di scotch. Comunque facciamo così. Così ho la luce laterale. Sono, Luca guarda, sono Dio, ho le luci di lato. Io cerco di sistemare in mano uguale. Ecco perché il mondo fa schifo. Questo è lo spirito di Natale di mio fratello. Ah sì. Comunque come tanto sia quella diciamo classica sia questa di Tiger. Oh, guarda, non c'è più la luce. Oh, c'è di nuovo. Nel tempo che mio fratello... Ah, se vi faccio impazzesco, per esempio. Ok. E qua adesso metto il bigliettino. Così. Aspetta da che lato. Questo si deve leggere. Ok. Stavo per perdere un dito. Comunque io, voi non vedete, ma qua io sto occupando mezzo tavolo. Perché ho una famiglia troppo numerosa. Un regalo fatto. Ora dove lo metto? Perché i cani stanno occupando il divano. E non ho restriato nel sacchetto dietro. Poi vado con mia zia Silvia. Qua dentro io ho già messo questa gius. La frasetta, la conchiglia. In più li metto... Sì, l'ho occupato di zia Silvia praticamente. E poi li metto questo profumino fatto a me. Semplicemente, questi sono 40 ml acqua. Ti ammazzo. Tipo un po' meno di cucchino di gel aloe. E 15 gocci di profumo che non mi si trà essenza in base. Le ho fatte personalizzate. Le ho fatte solo per tre persone perché erano nella busta sempre di tag. E poi è un affare grande così. Quanto hai speso? 100 euro? Un po'. Perché? Sei? Sei? Scusa, non è per la realtà. Appunto, sei l'efficiente. Sono sui 200. Con quanto Luca ha fatto un regalo, io ne facevo a tutti, probabilmente due volte. Poi qua c'è già il biglietchino, quindi devo scriverci per zia Silvia da Sara. Ho anche questi, dai che carini. Non ho altri fiocchetti perché niente, non li abbiamo comprati. Da Sara. Ci sono 3 sostegni, poi sono anche 200 euro. 200 euro. Vai a mettere in cima agli altri. Poi andiamo da quello che ho qua più vicino che è il mio zio Andrea, ovviamente conchiglia, questi pesi da Tiger, cioccolatini. Non so neanche quanti ce ne siano dentro. Si accontenterà. Più frasettina e ovviamente bigliettino. Ora, a lui poi ho messo questo di Tiger. Che in realtà c'erano nella busta per proteggerla. Perché ho le chiavi di casa qua? Ho messo tutto. Ah, davvero? Questa è la mia memoria in questo momento. Plaza, aspetta, aspettatevi, lo metto giù. Eh eh. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti.